Ok, bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo su BluStars Ok, ho preso tutte le mie cappe Io odio questo gioco, ho preso tutte le mie coppe Ma raga, oggi arriviamo a 500 coppe Quindi adesso ce ne ha fare uno solo Sempre se non mi lagga raga Che mi lagga, mi lagga, mi lagga Vabbè sempre mi lagga Se non ci fosse un giorno che non mi laggasse Oh cavolo, lo uccidiamo, raga Oh my god, ora Oh my god Oh my god Oh my god però è il primo di sto cavolo però Ragazzi la camperiamo qui Lascio tutto, lascio guardate Manina qui Ingovera la gastalina del cavolo Del cavolo Perché il cavolo, il cavolo va bene Abbiamo cavolo insomma Mi vorrei tanto muovere Allora, dobbiamo timmare bro Timma, 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 timma Si può giocare così Bravo il primo È il primo is gear Ho fatto la fongia con i bambini Oh my god Oh my god No raga Cosa stavo a fa' Cosa stavo a fa' Va bene Non so quanto abbiamo fatto Più cinque Cinque Gigi Cinque buono Mi è il gustas, mi è il gustas, mi è il gustas Cioè ne ho fare un'altra però Ci lagga troppo raga Cioè ragazzi ci lagga troppo Non possiamo fare un live Un cavolo del cavolo Raga porterò anche video di minecraft Con i miei amici ovviamente Da solo un po' mi è idea Ve lo devo dire Vabbè tutti si dia da solo E andiamo a trovare dei diamanti raga Andiamo a fare la mine La Ci andiamo a pigliare una miniera Una miniera Più lunga di mio zio La non mi spiace l'altra Devo perdere poco Unico modo per farvi vedere il mio game Oh my god Buono Shelly Shelly si sta comportando veramente bene Per questa partita Quindi Gigi per Shelly Bam Va bene Va bene Dai Gigi Come dico sempre Gigi Non so Più quattro Partiamo anche ad otto Come si chiama Ora ci apriamo la cassetta Se non vi dispiace Vorrei trovare pocio Niente Sblocchiamo Jessie Pocio Vorrei pocio Vabbè non è pocio Pocio Come faccio a non avere pocio Ma tutti non possono avere pocio Insomma Tutti l'hanno Insomma Insomma Sblocchiamo A fare un'altra solo Perché siamo a 485 ragazzi Tanto siamo a 4 minuti Sblocchiamo In un'altra solo Va bene Lago Sblocchiamo Aspetta chi se ne può far agare Per non porà E campero Si è campero Però ho detto Non ho detto Combatto Campero Campero E campero Insieme ai bambini Aspettiamo qui Siamo ancora in What? Non ci ha visto Ok noni Però siamo in 9 Dai 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 Dio Non venire più qui Lo stavamo sciottando Sì Il primo è illegale Pasta ma Uuu È il primo Ischior Sì vabbè Mi può lavare Quanto danno vuoi Però Ti ammazzo Lo stesso Boom Non ci credo C'è un disturbo Brava Dai Più uno Non mi è gustato Non mi è gustato Quindi siamo a 5 minuti Ancora Ne si è di tempo Però se laghi Non va bene C'è Ok ma non fa niente Non fa niente Matteo la calma La calma Tanto non vedo Chi cambierà Sta linea Fa schifo Fa schifo a tutti Fa schifo Fa schifo al cavolo Sta linea Noi siamo qua dentro Buonas Buonas Noi Come si sta Vuoto il culo Come 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 Mi passano tutti Di sopra Ma nessuno Che mi nota Ma Non mi lamento Mica Mica mi lamento Già un più uno Già un più uno Dai Vediamo se mi fa fare Un più tre Fai avvicinare Fai avvicinare qualcuno Fai avvicinare qualcuno Dai Dai che non ci faccio niente Solo lo ammazzo Per basta Sì Vediamo intanto Sette minuti Va Tre 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 Sì Ragazzi Andiamo a provare Proviamo a combattercela Va bene Che sai 92 raga 92 8 Vai Dobbiamo fare Prima di 15 Minutti Oh yeah Ok No Accendo che ci riusciamo A fare una seconda posizione Proprio Easy easy L'erpeasy Penso che Ah Sì Ci facciamo Bam Ci vediamo Nella prossima vita Forse No Io me ne andrei Ciao Ciao Di nuovo dove eravamo prima Ragazzi Solo che Adesso C'è il vero La vera battaglia Ok Ok Già un più Uno Più due Secondo più sei Quindi Sette Ok Più quattro Più quattro Più quattro Oh my god Oh my god Sfida tra i primi Sfida tra i primi Raga cosa stiamo facendo stroge 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 bam bam sì 8 però più quelli per terra sì più set GG c'è ma che cos'è questa partita dai no 99 ragazzi 99 ultima partita siamo a 10 minuti raga dai più di 5 minuti gli ultimi 5 minuti però ci possiamo riuscire oh my god camperiamocela campuriamosela questa situazione mi piace mi piace un botto mi gusta non mi gusta più non mi gusta più non mi gusta più non mi gusta più ci mettiamo qua raga non dobbiamo rischiare no 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 non devo rischiare bello quindi addio bello zio oh qua dentro è perfetto raga allora appena siamo quinti suicidios appena siamo quinti però però siamo quinti ho detto sì 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 dio ciao dio 500 coppe ne veremo eh sì 500 coppe se più a casa se più a mare se più a ristorante mi vuole dei problemi della tua vita se più a casa se più a mare se più a ristorante 500 1 coppe sblocco Jesse guarda il video si conclude qui noi ci becchiamo ad un prossimo video alla prossima ciao ciao Ciao!